se questi miei primi 60 anni fossero una canzone io probabilmente mi canticchierei gigante e lui un gigante per il rock italiano lo è ancora oggi con la sua musica la sua trasgressione e soprattutto con il suo entusiasmo quando si fa cifra tonda è come se se ne incominciasse un po nuovo capitolo il rocker più amato accanto alle battaglie giuste ha sempre detto che con il tfiba è cresciuto come ha fatto davide contro golia quando cantava che le parole sono artiglieria non sapeva ancora che il rock italiano sarebbe diventato una bomba vai maneskin ragazzi che bomba atomica io sono felicissimo del loro successo perché è strameritato gli auguro lunghissima vita e quindi lunga vita a loro e anche al rock italiano ciao a tutti vi amo grazie